Ciao, Marco, Roommates. In questi video ci raccontiamo un po' di quella che è la musica suonata e non. Oggi prendiamo spunto da una recente intervista che ci ha fatto su Fisocore, in merito al nostro nuovo disco Roots, che è stato prodotto da Pietro Foresti e è appena uscito sotto etichetta Murek. La domanda ci ha mostrato al fianco una serie di piccole interpretazioni e noi intendiamo sfruttarla per conoscere altre realtà presenti in Italia. Vi leggo quella che era la domanda. Quali sono i dischi rock e metal italiani più interessanti per voi, usciti nell'ultimo periodo? Ecco, la nostra risposta la trovate nell'intervista, il link all'intervista lo trovate in descrizione. Quello che ora ci interessa è, ci vorreste suggerire una band che sia italiana, che faccia rock o simili rock o metal o dintorni, che abbia un disco che sia uscito nel 2019 o nel 2020, non deve per forza cantare in italiano, va bene, può cantare anche in inglese. L'importante è che la band sia italiana e che abbia fatto un disco uscito nel 2019 o nel 2020. Scrivetecelo qua sotto, nei commenti, siamo molto curiosi, magari potrebbe scapparci qualche collaborazione o qualcos'altro. Per ora ci interessa sapere quello che voi conoscete di questo genere, di quello che c'è ora nell'underground italiano. Ci contiamo. Grazie. Grazie.